Questa è la carpinata che collegava Villa Mirabello a Villa Mirabellino, un sistema di residenze doppie ideato dal cardinale Angelo Maria Durini. Siete proprio sicuri di conoscere tutto del nostro parco? Vi accompagneremo alla scoperta delle cascine del parco, cascina costa alta, cascina costa bassa, Villa Mirabello e tante altre cascine. Andremo alla scoperta degli animali più piccoli con lo stereomicroscopio e andremo a costruire piccole opere di arte con materiale di riuso. Ti aspettiamo a spasso tra le cascine del parco di Monza.